Eccoci qua! Scusate ho avuto un po' di problemi a far partire la diretta oggi, non so che cosa sia successo, però speriamo bene adesso, fatemi sapere come da solito se è tutto ok, figurarsi se non doveva entrare in questo momento anche il gatto. Oggi come avete potuto vedere commenteremo insieme le uscite di agosto e di settembre, quindi i libri e i fumetti che usciranno in queste settimane. Con questo taglio di capelli stai da Deo! Grazie! Io non vedevo l'ora di smaltire un po' di capelli, tra l'altro ho fatto una cosa che non facevo da un sacco di tempo, ovvero ho tagliato un po' i capelli anche qua davanti, li porto tutti i pari da non so quanto tempo perché avendoli molto fini danno l'impressione di avere così un po' più di capelli, però mi ci voleva un bel taglio netto. Allora direi di partire un po' con le novità perché ce ne sono veramente tante. Eccoci qua! Questi sono i primi libri e fumetti che usciranno ad agosto, il 4 in particolare uscirà per Star Comics, uno Yuri Manga. Sono molto curiosa e contenta che finalmente ci siano sempre più manga con al centro l'amore fra ragazze. Io già ne vedo uno che mi ispira un sacco, fammi sapere quale. Fatti odiare invece è un boys love. Inizialmente doveva uscire sempre il 4 di agosto, invece poi è stata spostata la sua data al 16-18. Vi avevo anticipato l'altra volta che era in uscita ad agosto per edizione ho poi un nuovo libro di Mieko Kawakami, ovvero Heaven, che abbiamo scoperto nella scorsa diretta essere un libro che non vedo davvero l'ora di leggere, Whisper Me a Love Song. Come dicevo è uno Yuri Manga e vede per protagonista una ragazza che suona in una band, quindi mi aspetto forse qualcosa simile a Given per intenderci, ma appunto tutto al femminile. Molto curiosa di leggerlo. Come vi dicevo poco fa invece Heaven è una storia che parla di bullismo. Il protagonista infatti ha un difetto, è strabico se non sbaglio, o comunque ha un difetto alla vista per cui viene preso costantemente in giro e diventa poi amico di una ragazza che a sua volta viene presa di mira dalle altre persone perché si trascure insomma a un aspetto un po' trasandato. E fra i due nasce appunto una bella amicizia. Sono molto molto curiosa di leggere questo titolo. Dovrebbe uscire verso la fine in realtà di agosto. Questo è un mese in cui tutti meno male vanno in vacanza, vanno in ferie, quindi non ci sono magari ricchissime uscite, però i pochi titoli che ci sono secondo me sono on point, come si suol dire, e questo di Mieko Kawakami non vedo veramente l'ora di leggerlo. Il titolo invece per Fazzi è Servo e Serva, l'ho inserito perché appunto so che è una casa editrice che piace molto. Non è un titolo che attendevo o che mi incuriosisce particolarmente, devo essere sincera, però ve lo segnalo nel caso appunto qualcuno di voi fosse curioso. Recupero la trama, così vi dico un po' di che cosa parla. Horace Lamb è un nobile tirannico che maltratta la servitura e i quattro figli. Insieme a loro vive il cugino Mortimer, un uomo invece molto pacifico che non si è mai sposato, nulla tenente segretamente innamorato di Charlotte che altrettanto segretamente lo ricambia. Quindi è una storia un po' familiare, un po' di intrighi, sembra sempre interessante. Quando la donna parte per un lungo viaggio in America, l'equilibrio della casa traballa. Questa è un po' la trama di Servo e Serva. Continuando, siamo già alla fine di agosto, il 31 esce Il Mondo. Per Oscar Vault in particolare esce una duologia fantasy, Spin the Dawn è il primo volume e Unreveld the Dusk è invece il secondo. Il 4 agosto esce il numero 4 di Renta Girlfriend, da non perdere. Ho inserito alcuni seguiti di fumetti, manga, verso la fine, però mi era sfuggito Renta Girlfriend, quindi hai fatto bene a segnalarlo, assolutamente. Spin the Dawn invece è il primo volume di due di una serie fantasy, anche in questo caso non mi ispira particolarmente dalla trama. La protagonista, da quello che ho capito, vuole diventare Sarta, ma vive in un mondo in cui le donne non hanno grandissime prospettive, diciamo, il meglio che si aspetta da loro è di combinare un buon matrimonio. Però un giorno il padre viene convocato a corte, sta particolarmente male, quindi si finge, la figlia insomma, si finge un ragazzo. E da lì partono un po' le sue avventure. Lo stesso giorno dell'uscita del primo volume uscirà anche il secondo. Sicuramente le copertine sono molto accattivanti, non so che cosa ne pensate voi, però sono veramente molto belle le grafiche delle copertine. Sempre il 31 esce poi Dune, il graphic novel, questa è una serie abbastanza conosciuta nel mondo fantascientifico, io devo ammettere di non averlo mai letto. Lo so che forse è un'uscita anche un film, insomma a breve, ma non ne so molto. Qua c'è uno dei titoli, uno degli altri titoli che attendo con più ansia. Uscirà sempre il 31 di agosto ed è La mia vita con i gatti. Dimoriscita Norico, che era già uscita con Einaudi con Ogni giorno è un buongiorno. Titolo carino sulla cerimonia del tè, il rapporto della protagonista che poi è l'autrice con appunto il tè e la cerimonia. Non mi aveva colpito particolarmente questo libro, mi aspettavo soprattutto dal titolo, Ogni giorno è un buongiorno. Poi come stato titolo c'era qualcosa riguardo a come essere felici. Non so, mi aspettavo qualcosa di completamente diverso, ma non era stata una brutta lettura affatto. Anche questo libro parte dall'esperienza personale dell'autrice, infatti è una sorta di diario. In questo caso vi recupero la trama. A me mi aveva colpito soprattutto bene il gatto in copertina. Ho questo pallino, prima o poi devo recuperare tutti i libri, i fumetti che parlano di gatti. È il diario delle giornate di Norico che trascorre in compagnia dei suoi ospiti felini, ma non solo. Grazie a loro infatti Norico farà incontri speciali e scoperte sorprendenti su se stessa, la vita e soprattutto la felicità e la sua ricerca. Quindi un po' come in Ogni giorno è un buongiorno, mi aspetto qualcosa concentrato sulla sua esperienza. Gatto in copertina uguale acquisto assicurato. Questo è poco ma sicuro, ce la intendiamo o non poco, devo dire. Vi ho messo poi, come anticipavo, alcuni seguiti che usciranno ad agosto. Il 31 in particolare esce il quinto volume di Monstress. È una serie che non so se state seguendo, io avevo letto i primi tre volumi se non sbaglio, ma ho scelto poi di non continuare perché non mi stava appassionando particolarmente. È un po' una serie fantasy, sci-fi, con dei richiami un po' steampunk. Molto particolare, soprattutto perché ci sono in mezzo poi dei gatti guerrieri. Quindi di nuovo mi ero lasciata pregare molto, devo ammettere, dalla presenza dei gatti, ma poi lo svolgimento della storia non mi aveva conquistata più di tanto con i seguiti. Uscirà poi all'inizio, se non sbaglio, di agosto il terzo volume di Shadows House, che invece non vedo l'ora di recuperare. Il primo volume mi era piaciocchiato, ma era abbastanza introduttivo. Il secondo mi è piaciuto già molto di più. Si scoprono già un po' di cose, in particolare vediamo il debutto in società della nobile, presso cui presta servizio la nostra protagonista, che è una bambola vivente. Allora, devi recuperare Curo. L'ho fatto, l'ho letto il mese scorso e mi è piaciuto veramente tantissimo Curo. Infatti era una miniserie che volevo già recuperare da un po', ma dopo aver letto il primo volume di Shadows House, visto che l'autore è sommato lo stesso, mi sono detta, dai, è arrivato il momento e sono contenta di averlo fatto perché è un fumetto che mi ha veramente colpito al cuore. Ciao Doni, bentornata, ciao Erika, sono arrivata in tempo per fortuna. Sì, in realtà ad agosto non c'è molto movimento, è un po' un mese, tra virgolette, piatto, ma ci sono delle piccole chicche. Avevo segnalato poco fa un titolo che non vedo l'ora di leggere, che è quello nuovo di Mieko Kawakami, Heaven, e anche questo, La mia vita con i gatti. Non vedo l'ora di leggerlo. Metà di ogni volume è tutto a colori per quanto riguarda Curo, infatti io non me lo aspettavo, sono rimasta super colpita, mi è piaciuta molto questa cosa. Forse a colori rendono anche di più i disegni di sommato, non so, a questo tratto molto bello. I personaggi sembrano veramente delle bambole. Il 19 agosto esce il numero 1, City Hunter XYZ, la reedizione di tutti i 336 capitoli della saga in 12 volumi. Questo me l'ero perso, devo essere sincera. Non l'ho seguito molto per quanto riguarda il manga, ma ricordo che tantissimi anni fa vedevo un po' l'anime in tv, lo davano verso sera, a cena, quindi mi ricordo che qualche episodio l'ho visto. E poi esce anche il decimo volume di Hanako-kun, I Sette Misteri dell'Accademia. Non mi ricordo se è Camone o Camome, lo sbaglio sempre. Comunque questa è un'altra di quelle serie che ho deciso di riprendere perché in molti me ne hanno parlato molto molto bene. Avevo letto soltanto il primo volume, carino, ma nulla di eccezionale. Adesso ho recuperato il secondo, sono molto curiosa. Il manga è cento volte meglio. Immagino, non mi tentare, che ho troppe cose da seguire. Non mi tentare. Poi altri seguiti che usciranno questo mese, vabbè, l'ultimo volume di Girl from the Other Side. Potrei quasi quasi recuperarlo, finire di recuperarlo. Io ho letto soltanto i primi due volumi, poi fra le varie serie che sto seguendo. L'ho un attimo messo da parte, ma sicuramente lo riprenderò. Da ultimo ho letto Love from the Other Side, che è uscito il mese scorso, sempre per J-pop. È una raccolta di storie, sempre di nagabe, incentrate sull'amore. Molto, molto bello. Anche se mi è piaciuto un po' di più Wisdoms. Sarà un po' l'ambientazione, il fatto che i personaggi sono degli animali comunque molto, molto carino. E nulla, quindi si concluderà Girl from the Other Side. Uscirà il secondo dei diari della speziale. I diari della speziale, bellissimo. Il primo volume mi è piaciuto un sacco. Anche a me è piaciuto molto. È un manga tratto da una light novel. E parla appunto di questa ragazza che si è formata per diventare speziale, ma poi viene rapita, portata in una corte a fare tutt'altro. Ma grazie a una sorta di diceria, presunta maledizione, avrà modo di mettersi in moto, indagare e sfruttare appieno le sue capacità appunto di speziale. Si occupa un po' di, tra virgolette, pozioni, rimedi, antidoti, medicine, diciamo così. È molto bella l'ambientazione di questa corte. Ci sono dei vestiti, delle serve, diciamo, delle domestiche, delle concubine veramente favolosi. Anch'io adorato i disegni sono spettacolari. Concordo. Molto, molto bello, è vero. E uscirà poi il secondo volume di Inheritance of a Roma. Non ho letto il primo, quindi non so come sia. Si tratta però di un Boys Love. E poi il terzo volume di Metamorfosi, che invece sto seguendo con molto, molto piacere. Ho recuperato da pochissimo il secondo volume, quindi non vedo l'ora di leggerlo. La storia di un'amicizia bizzarra, possiamo dire così, fra una signora anziana e una liceale, che sono appassionate entrambe di Boys Love e quindi condividono questa comune passione. Bellissimo anche, secondo me, i diari della speziale. Non vedo l'ora di continuarlo, sembra promettere bene. Vero, perché unisce appunto quest'atmosfera molto, come posso dire, ricercata, raffinata, agli intrighi di corte, poi in mezzo ci sono anche le varie capacità della protagonista. Non so, sembra molto interessante, anche io sono decisamente curiosa di continuarlo. Passiamo a settembre, ci sono delle chicche, ovviamente queste non sono tutte le uscite di settembre. Ho cercato di raccogliere più info possibili riguardo a quello che ci aspetterà per settembre, in modo da dare qualche anticipazione, proprio perché agosto è un po' un mese, diciamo, secco. Ci sono non troppissime uscite, un po' perché anche le case editrici vanno comunque in ferie e a settembre poi, come al solito, esce il mondo. Ad esempio, troviamo sul letto di fiori di Banana Yoshimoto, ebbene uscirà un nuovo libro di Banana Yoshimoto. Io sono, posso dirlo, molto delusa dalla copertina, una cosa assolutamente frivola, me ne rendo conto. Però mi ricorda tantissimo la copertina del dolce domani. E non lo so, non mi dice niente questa copertina. A me piace molto Banana Yoshimoto e mi dispiace che le sue copertine sembrino un po' copia e incolla. Non so, non sono molto impressionata, però dalla trama sembra promettere bene. E infatti la storia di una ragazza è una storia più che altro sentimentale, quindi con al centro l'amore, ma non solo. E la quiete di questa protagonista viene poi però turbata da alcuni episodi, possiamo dire, non soprannaturali, però abbastanza inquietanti o comunque strani, che la protagonista appunto non si sa spiegare. Vero, non le rendono molto giustizia. È un peccato, è un peccato perché è un'autrice molto amata, ok? Che magari non ha bisogno di attirare probabilmente, chissà quali lettori, proprio perché è tanto amata, però insomma, secondo me potevano fare qualcosina di più con questa copertina. Altro titolo secondo me molto molto interessante, Stargazing, che uscirà per Bao. Se non sbaglio tutti e due usciranno il 2 settembre, quindi proprio all'inizio, esatto. E in questo nuovo fumetto, Jen Wang, che ha scritto La Sarta e il Principe, anche qua inverto sempre il titolo, comunque era uscito un altro fumetto suo, bellissimo, sempre per Bao. E in questa storia si parla di due ragazzine, della loro amicizia e della loro crescita, che sono simili, però molto diverse, ed entrambe hanno dei genitori che sono immigrati asiatici. Due famiglie quindi con origini simili, però di nuovo molto distanti fra di loro. Io ho scoperto Banana Yoshimata grazie a te, che bello! Sono molto contenta, fammi sapere che cosa hai letto di suo. Sono curiosa. Un titolo poi che io personalmente pensavo fosse già uscito, perché su Instagram l'ho visto ovunque. Le hanno fatte una pubblicità assurda, secondo me ai sette mariti di Evelyn Hugo. Uscirà il 7 settembre, a quanto pare. Io ero convinta fosse già uscito, invece no. Sinceramente non ho trovato moltissime informazioni a riguardo a un titolo che così a pelle non mi ispira particolarmente. Quello che so è che Evelyn Hugo è una ex divina di Hollywood e dopo anni vissuti lontano dai riflettori decide finalmente di svelare la sua verità e anche quella dei suoi sette mariti. Quindi chissà una storia... Sarà una storia misteriosa? Non so, se avete maggiori info fatemi sapere perché sono molto curiosa. Mentre Ivy o Evie di Susie Young proprio oggi ho visto un post in cui ne parlava Neri Pozza che era a casa editrice e lo paragonava al Grande Gatsby. Aiuto! Come ha scritto il Washington Post i romanzi a tema, scesa sociale e altra società come il Grande Gatsby o il talento di Mr. Ripley sembrano non passare mai di moda. La Casa della Gioia di Edith Wharton è un classico di questo genere prolifico e il romanzo di esordio di Susie Young, Ivy ricorda a tal punto la più famosa opera di Wharton che persino il nome della protagonista Ivy Lynn ci riporta a Lily Bart. E' questo quello che avevano scritto. Non so, sono da una parte curiosa da quanto ho capito la protagonista di questa storia è una ladra quindi decisamente un'anti-eroina però attendo qualche maggiore informazione al riguardo è uscita un po' la trama di questo libro ma non so attendo maggiori informazioni. Altri titoli che usciranno della serie ci vogliono poveri bellissimo per quanto riguarda la grafica e sicuramente anche le illustrazioni visto che anche il precedente volume è uscito sempre per l'ippocampo sui fantasmi del Giappone torna con spiriti e sono veramente cieca non riesco nemmeno a leggere quello che ho scritto Spiriti creature del Giappone ecco uscirà appunto per l'ippocampo il 16 di settembre quando l'avevano annunciato no vabbè ma davvero ci vogliono poveri esatto quando l'avevano annunciato pensavo che sarebbe uscito più in là verso ottobre novembre e invece esce subito così a settembre io tipo mannaggia adesso quale scusa mi invento per farmelo regalare uh il libro di Lacombe spettacolare il fatto sta che è una raccolta di storie alcune non so se tutte però alcune sono inedite in Italia e illustrate appunto poi da Lacombe veramente spettacolare già solo la copertina è meravigliosa poi anche l'edizione del precedente volume che è uscito è veramente bellissima molto curata invece il 14 di settembre esce una nuova serie di Jay Kristoff almeno il primo volume di una nuova serie ovvero l'impero del vampiro mi aspetto di nuovo qualcosa molto simile a Nevernight almeno per ambientazione un po' fantasy slash horror ma appunto con protagonisti i vampiri non so se in questo caso mi butterò come con Nevernight ho paura ho un po' paura però devo dire che devo dire che lo stile di Jay Kristoff le sue storie sono veramente particolari per certi versi originali non lasciano indifferenti ecco ma il primo settembre esce My Genderless Boyfriend della Star Comics forse l'hai detto prima no non l'ho detto non l'ho nemmeno segnato non avevo visto questo eppure ero stata sul sito della Star Comics non l'avevo visto mi era sfuggito grazie per averlo segnalato perché adesso recupero me lo segno subito il 21 di settembre uscirà invece Ragazza Serpente Spina è un titolo con una copertina un po' particolare non so mi ricorda altre serie fantasy dovrebbe però essere un libro autoconclusivo da quello che ho capito sempre sul genere fantastico con protagonista una principessa che ha il sangue avvelenato qualcosa del genere e quindi cerca in qualche modo di liberarsi da tra virgolette questa maledizione è un libro di cui ho letto recensioni un po' contrastanti per quanto riguarda le recensioni diciamo in lingua originale perché appunto in Italia ancora non è uscito per certi versi è una storia un po' fantastica romance che è piaciuta però ad altri non ha conquistato se non sbaglio poi verso la fine possibile di settembre esatto il 30 settembre uscirà le nostre adorate ragazze che è il libro insomma copertina in basso l'infanzia e l'adolescenza gli anni della giovinezza e dell'età adulta fino a quelli della vecchiaia con un rimando ai quattro elementi che costituiscono il mondo i racconti che compongono questa raccolta ritraggono donne in momenti diversi del loro ciclo vitale e affrontano alcuni dei temi cruciali dell'esistenza umana il sé l'amicizia la sessualità la maternità e la morte è un titolo particolare devo dire se non ho capito male ogni protagonista ha proprio il nome di un elemento quindi acqua terra fuoco eccetera sono troppo curiosa per il nuovo libro di Cristofo ho odorato follemente Nevernight questo nuovo libro farà parte di una trilogia da quello che ho capito io sì o almeno di una serie non so se sia stato già deciso che saranno tre libri o meno però si tratta di una nuova serie esatto se non sbaglio poi è già disponibile in preordine ed è possibile ricevere oltre al libro anche un art book o qualcosa del genere un qualcosa di extra oltre al libro ne stanno parlando in questi giorni sul profilo Instagram di Oscar Volta poi non credo che a parte Vita Nostra gli altri titoli abbiano già una data definitiva o meno di uscita però usciranno a settembre Vita Nostra in particolare è il primo volume di nuovo credo di una trilogia o comunque di una serie gli scrittori sono due coniugi ucraini ed è un libro che ha fatto molto parlare sono infatti curiosissima di leggerlo perché è una storia che può rientrare nel genere fantasy ma parla principalmente di psicologia di metafisica non so sembra particolarmente inquietante e crudo per certi versi la protagonista viene obbligata a seguire un percorso di studi da quello che ho capito finisce poi per essere invece torturata o comunque subisce delle violenze e questo la spingono poi ad approfondire alcuni aspetti che sono molto lontani dall'essere il classico pozioni magia che rivediamo in tante storie che vedono per protagoniste accademie o scuole appunto fantastiche ma appunto si basa sulla psicologia e la metafisica non so sembra molto particolare non sono riuscita a trovare ancora una vera e propria trama in italiano di questo libro che uscirà per fazzi il 30 di settembre però è da tenere assolutamente d'occhio sono super curiosa così come mi incuriosisce tanto Toilet Stories Toilet Stories che uscirà invece per panini ed è una raccolta di storie da leggere al bagno già così una cosa che fa molto ridere e non so per quale motivo mi sono detta cavolo dopo l'uscita di Detective Culetto mi sembra un must questa raccolta di storie non ho capito se anche le storie della raccolta parleranno del bagno o meno però sembra una raccolta molto carina per passare il tempo appunto sappi che Taki non è un vero gatto nooo cosa sì Taki è Taki è un vampiro infatti ha dei dentini abbastanza sospetti avevo questo dubbio un titolo poi che uscirà sempre a settembre che io veramente non vedo l'ora di leggere è Josie the Tiger and the Fish che uscirà per J-pop in due versioni uscirà il romanzo che da quello che mi sembra di capire è l'opera originale e poi uscirà anche il manga composto da due volumi che è stato tratto dal romanzo ne hanno fatto anche un film e credo che anche quello uscirà a settembre io veramente non vedo l'ora vi leggo la trama di questa storia Tzuneo giovane studente universitario incontra per caso chimico una ragazza colpita da paralisi cerebrale che non può più muovere le gambe e non uscirebbe neppure di casa se non fosse per le cure di sua nonna con la sua cavarbia dolcezza Tzuneo cercherà pian piano di instaurare un rapporto con chimico aiutandola a uscire dal guscio nel quale si è chiusa per colpa della disabilità già uscito in giapponese sottotitoli in streaming ok io infatti avevo letto che sarebbe uscito poi al cinema qua in Italia ma non vorrei sbagliare e uscirà poi appunto sia il romanzo che il manga una storia da una parte tenera e commovente o almeno così si prospetta poi sempre per Jpop uscirà finalmente perché era stato annunciato già da un po' di tempo Gelosi di Scarlett Berico è un'autrice che a me piace tantissimo anche se il fumetto suo che mi piace di più ancora non è uscito in Italia spero uscirà comunque presto ci sono buone speranze direi visto che hanno preso a pubblicare appunto questa serie sembra super interessante trovo davvero molto speciali e importanti tutte le storie che parlano di diversità in ogni sfumatura sono davvero curiosa di vederlo sono curiosissima anche io non ci sono troppissime storie purtroppo che riguardano appunto la disabilità quindi quelle che ci sono secondo me sono veramente molto molto preziose anche perché non è sempre facile raccontare una storia intrattenere emozionare e portare comunque certi temi nel modo non dico giusto però con la dovuta sensibilità no c'è sempre il rischio di raccontare una storia e accentuare certi aspetti per impietosire il pubblico quindi non è facile raccontare storie di questo tipo quindi spero vivamente che sia una bella storia sono molto molto curiosa al riguardo sempre per j-pop se non sbaglio usciranno anche questi fumetti qua il primo di Jun Mayuzuki la stessa autrice di come dopo la pioggia era stato annunciato poco tempo fa nei bassi fondi della città murata di Colun un insediamento sovrappopolato in gran parte non governato dalla regione di Hong Kong la trentenne Kugirai e suo collega lavorano eroicamente come agenti immobiliari tra le mura del più grande labirinto del ventesimo secolo in una distopia tanto surreale quanto amichevole si incrociano le vite i drammi e gli amori di giovani adulti alla ricerca disperata di una nuova vita molto curiosa anche perché come dopo la pioggia purtroppo ancora non sono riuscita a concluderlo ma è un fumetto che mi sta piacendo veramente tanto sono curiosa di vedere una storia della stessa autrice però con protagonisti diciamo entrambi adulti perché in come dopo la pioggia vediamo per protagonista una ragazza liceale che si innamora di un uomo molto più grande di lei e quindi è una storia più incentrata sulla scuola diciamo così curiosa di leggere appunto una storia dell'autrice con toni decisamente più adulti Josie esce al cinema il 27, 28 e 29 settembre grazie sono veramente molto curiosa non vedo non vedo già l'ora uscirà poi un nuovo fumetto di Ogerezu Tanaka anche in questo caso in due versioni quella diciamo normale e una invece che verrà arricchita da un da un albo spillato che raccoglie un altro manga diciamo breve si tratta di un boys love che vede per protagonisti i protagonisti di Love Whispers che io non ho letto quindi non ho idea della storia ma so che di nuovo era un fumetto tanto a tanto atteso ed è Obsessed with a Naked Monster mi sa che non l'avevo ancora detto infine uscirà il nuovo fumetto di Taiyo Matsumoto anche questo era stato annunciato un po' di tempo fa number five il primo volume che è un'opera fra fantascienza post apocalittico e supereroi io sinceramente alla parola supereroi un po' mi ritraggo manco fossi allergica quindi non so se lo leggerò o meno Taiyo Matsumoto è un autore comunque che a me piace molto di suo non ho letto tantissimo però ad esempio Sunny mi è piaciuto tanto anche i gatti del Louvre eccetera sicuramente da tenere d'occhio e poi non ho trovato un'immagine da farvi vedere ma uscirà sempre nella seconda parte di settembre una nuova box di A Silent Voice per Star Comics quindi il fumetto di Yoshito Kyoima tornerà in un nuovo cofanetto sono veramente molto curiosa anche se non credo lo recupererò visto che ho già tutti i fumetti però per chi fosse interessato uscirà questo nuovo box appunto non ho trovato foto però uscirà usciranno poi il secondo di Beyond the Clouds di Nike il primo a me era piaciuto molto quindi sono molto curiosa di recuperare anche il secondo e poi continueranno altre serie come ad esempio i diari della speziale di cui abbiamo parlato prima io non so come farò mi ritroverò sicuramente sotto a un ponte quindi se volete ci mettiamo d'accordo così ci vediamo tutti nello stesso posto almeno ci aiutiamo ci aiutiamo a vicenda no scherzi a parte ci sono delle uscite veramente molto molto interessanti anche ad agosto alla fine ok non esce chissà che cosa ma quel poco che esce secondo me è abbastanza interessante poi si conclude Girl from the Other Side insomma è una serie che ormai c'è da qualche anno quindi è un evento diciamo così poi l'autore non doveva poi partecipare a qualche fiera se non sbaglio tipo l'anno scorso e poi purtroppo non c'è potuto essere insomma non è stata fatta questa fiera non so questo vago ricordo in ogni caso io ve lo ripeto perché secondo me sarà veramente bellissimo un nuovo libro di Miko Kawakami La mia vita con i gatti di quelli che usciranno a settembre poi a parte vabbè Josie The Tiger and the Fish anche spiriti del Giappone spiriti e creature del Giappone secondo me sarà assolutamente da recuperare spero di farlo subito in modo da non rodere di invidia quando quando appariranno le prime foto online delle pagine di questo splendido libro sembra abbastanza interessante anche le nostre adorate ragazze è molto particolare il fatto di associare ad ogni personaggio un elemento e di raccontare comunque le diverse fasi di vita e poi chiaramente il nuovo libro di Banana Yoshimoto come non citarlo devo dire che gli ultimi usciti di Banana Yoshimoto che ho letto non mi hanno fatta impazzire ad esempio il Dolce Domani carino ma non so non mi ha conquistata anche le sorelle Donburi non mi aveva fatto impazzire chissà chissà probabilmente lo recupererò perché Banana Yoshimoto è pur sempre Banana Yoshimoto una delle mie autrici preferite di sempre però diciamo che volo basso non ho altissime aspettative al riguardo ci aspettano tante belle cose poi a settembre immagino che arriverà il mondo nelle prossime finito il periodo diciamo ferragosto dopo ferragosto secondo me inizieranno ad esserci altri annunci molto interessanti su altri libri fumetti che usciranno è sempre così settembre un po' il ritorno a scuola no? poi figuriamoci a ottobre che dovrebbe pure esserci Luca Comics infatti io l'altro giorno ieri vi ho chiesto che cosa mi sono persa in questi giorni nessuno mi ha avvisato che hanno annunciato che Luca Comics si farà io shock soldi che se ne vanno valigie di soldi che se ne vanno io non so se riuscirò ad andare quest'anno devo ancora poi capire come sarà organizzato visto che gli ingressi saranno contingentati che non ci saranno zone in cui è possibile accedere senza biglietto quindi sarà obbligatorio acquistare il biglietto eccetera però devo informarmi meglio al riguardo come vi dicevo non so se riuscirò ad andare ma sicuramente per Luca vuoi che non annunceranno di nuovo il mondo direi che ci possiamo salutare qua io spero di avervi fatto conoscere qualcosa insomma di nuovo spero che vi siano piaciute un po' anche le anticipazioni di settembre come vi dicevo agosto era un mese un po' piatto quindi ho cercato di recuperare qualcosa anche per settembre poi questa settimana ci rivediamo venerdì per il gruppo di lettura ma non parleremo soltanto del libro del cbbook club perché ho preparato qualche cosina un po' un po' sfiziosa carina sui dolci giapponesi sui tipici dolci giapponesi visto che il libro che abbiamo letto a luglio le ricette della signora Tokue era incentrato su una pasticceria di dorayaki e si citano comunque alcuni dolcetti ho pensato di preparare una live in cui parlare appunto di dolci e anche del libro del gruppo di lettura grazie a voi per la compagnia ci vediamo quindi prestissimo e vi auguro una buona serata ciao ciao ciao